Ciao a tutti gli amici di AIMEG, sono Nicola Micali, Proda Specialist TV di LG Electronics Italia. Oggi voglio raccontarvi quelle che sono le novità che hanno visto LG protagonista all'ultimo CS di Las Vegas 2017. OLED, iniziamo dal grande annuncio, nuova serie V7 top di gamma. Bellissima, elegante, parliamo di uno schermo che va appeso al muro, sottile solo 2,57 mm attraverso una superficie magnetica. Non solo design ma anche il top ovviamente della qualità delle immagini OLED, quindi nero perfetto e colori perfetti. Ma da quest'anno anche audio perfetto grazie a una vera e propria soundbar che va collegata al televisore attraverso un sottilissimo cavo che all'interno ha degli speaker motorizzati che vengono attivati elettricamente tutte le volte che il televisore si accende. E supporta l'audio in formato Dolby Atmos, quindi il top della qualità di ultima generazione. Il resto della line-up si completa con ben quattro altre serie, tutte quante 4K HDR con design piattissimo. Iniziamo dalle due top di gamma G7 ed E7, entrambe con audio Dolby Atmos e soundbar integrata. Poi ci sarà una serie intermedia C7, anch'essa ovviamente piatta 4K HDR Smart e per così dire la parte entry verrà costituita dalla nuova serie B7. Il range di dimensioni che andremo a coprire sarà dal 55 al 77 pollici e tutte quante supporteranno la nuova Smart TV WebOS versione 3.5. Chiudiamo la panoramica CS 2017 con due ulteriori novità. Uno nel comparto audio con uno speaker più che innovativo che addirittura levita sulla base e torna sulla base quando la batteria ricaricabile all'interno si scarica. È un monitor PC da 32 pollici 4K HDR, il top per chi vuole sia il meglio per l'editing video e foto, ma soprattutto vuole provare l'esperienza gaming con i nuovi contenuti 4K HDR. Grazie a tutti.